Vediamo telepatia per contattare la persona che ti interessa e farla innamorare. Vediamo in questo video un contatto telepatico con la persona che ti interessa per farla innamorare. Quello che ti chiedo, mentre ascolti il suono della mia voce e respiri, è di metterti in una posizione comoda, tranquilla, rilassata, con le braccia rilassate, le spalle rilassate, la schiena è retta per allineare il chakra ma non tesa. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri, ma respiri profondamente rilassandoti, puoi chiudere dolcemente gli occhi. E mentre sei con gli occhi chiusi e respiri, non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. Stai entrando in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Sempre più profondo. Il tuo respiro diventa calma e regolare. Come calma e regolare è il respiro del mare. come calma e regolare è il respiro dell'universo. E mentre continui a respirare e ad ascoltare il suono della mia voce ti chiedo di visualizzare davanti a te è la persona che ti interessa. La persona che forse non ti ama del tutto come vorresti. La persona che forse non è totalmente coinvolta con te. e mentre continui a respirare e ad ascoltare il suono della mia voce questa persona entra entra energeticamente in contatto con te e puoi visualizzare il tuo corpo di luce e il suo corpo di luce e dal tuo corpo di luce si emana una bolla che si espande una bolla di colore rosso che si espande si espande sempre di più andando a inglobare completamente il corpo di luce della persona che ti interessa attraverso questa energia attraverso questo collegamento ha inglobato ha inglobato completamente il corpo di luce della persona che ti interessa adesso questa bolla di energia di colore rosso partita dal tuo corpo di luce vi contiene entrambi creando un legame d'amore indissolubile creando un legame d'amore indissolubile e mentre respira il tuo respiro è calma e regolare come calma e regolare è il colore del mare come calma e regolare è il colore dell'universo può inviare un messaggio telepatico a questa persona un'unica parola amami e questa parola come una freccia scagliata da cupido va a centrare il chakra del cuore di questa persona e crea un collegamento indissolubile un collegamento estremamente profondo con te e da di dentro questa persona sentirà l'esigenza di amarti sentirà forte il desiderio di amarti sentirà una forza potente che la collegherà a te sentirà sentirà un'energia potente di attrazione per te e mentre tu sviluppi sempre di più questa certezza e mentre tu sviluppi sempre di più questa sicurezza puoi portare nuovamente l'attenzione sul tuo respiro ispirare ispirare ed espirare fare tre respiri profondi e al termine di questi tre respiri profondi sentirti bene tranquilla tranquillo rilassata rilassato e per finire aprire dolcemente gli occhi con la certezza che questa persona sarà fortemente attratta da te sarà fortemente coinvolta da te bene e quindi a questo punto apri gli occhi ascolta il suono della mia voce e fare una donazione al canale perché fare una donazione al canale porta bene e insomma è dando che si riceve diceva San Francesco e per questo video è tutto